E anche questa settimana è arrivato al termine. Oggi siamo a venerdì e cominceremo subito la nostra classe con un bel burgner warm up, tutta la sequenza completa, prima con il PVC e poi con il bilanciere vuoto. A seguire avremo da minuto 0 al minuto 5, 5 minuti per fare 3 snatch deadlift, ovviamente con un peso adeguato. Dal minuto 5 al minuto 10 avremo 2 snatch high pull, quindi la tirata. Dal minuto 10 al minuto 20 avremo 10 minuti per trovare un heavy power snatch. Heavy vuol dire abbastanza pesante ma non a livello di massimale. E WOD, semplicissimo, per terminare la settimana parliamo di 5 round dove faremo 20 calories raw per gli uomini e 15 per le donne, seguiti da 15 snatch con 35 kg per gli uomini e 25 per le donne. Questo per quanto riguarda advanced e intermediate. Per quanto riguarda i beginners invece, gli snatch saranno sostituiti da dei semplici ground to overhead eseguiti con 15 kg per gli uomini o 10 kg per le donne. Si chiude qui la nostra settimana, ci rivediamo lunedì, sempre su Ciper TV, sempre da CrossFit Belizio. Buon weekend! Buon weekend!